buongiorno l'andrea ballarini ligure a playa san juan tenerife spagna buongiorno 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 a voi allora ci racconta un po la sua storia che è una storia di un anno diciamo diviso un po a metà no tra l'italia e le canarie esattamente esattamente dal 2016 abbiamo deciso di cambiare un po la nostra vita noi gestiamo dell'attività a sestri levante e con il fatto che sono diversi ristoranti diciamo che io posso lavorare far ridere in smart working nella gestione dei locali perché ci occupiamo a 360 gradi sia della produzione della distribuzione dei nostri vini sia della gestione di questi locali e ne stiamo ampliando diversi stiamo aprendo ancora due locali proprio in questi giorni quindi io riesco riesco a vivere durante la bassa stagione all'estero a tenerife per la precisione playa san juan che è un piccolo paese e ci consente questo di fare quello che purtroppo non riusciamo a vivere durante la bella stagione in liguria cioè di passare un po di tempo in relax al caldo perché comunque i ritmi di lavoro essendo smart working ci consentono anche di goderci la nostra bimba che ormai ha nove anni andrea come mai avete scelto le canarie e tenerife abbiamo scelto le canarie per non per il mare sicuramente perché è sempre molto freddo anche ad agosto ma per il fatto che si trova solo quattro ore e mezzo dall'italia quindi soprattutto all'inizio nel 2016 dove facevo avanti indietro molto spesso erano due settimane in due settimane perché seguivo i lavori di ristrutturazione della casa e tutto quindi facevo due settimane a tenerife due settimane in italia poi perché comunque ci sono ospedali di una qualità alta cose che magari non ci sono in altre località molto belle e relativamente vicino all'italia per esempio può essere l'egitto e poi c'è anche una certa cultura perché la cultura spagnola latina che è molto vicina a quella italiana diciamo si presta molto bene molto bene con le persone che vivono là ci si trova bene si è creato subito un bel legame sia con gli abitanti di tenerife sia con la piccola comunità italiana che a Playa San Juan sta crescendo di anno in anno ecco avete scelto di vivere non in una diciamo così delle città più grandi più turistiche forse perché lavorando con il turismo c'è bisogno un po di relax mi permetto questa battuta Andrea allora se è forse frizzata la nostra immagine allora tra poco torneremo proprio da Andrea Ballarini che insomma ci sta raccontando questa vita divisa in due no sei mesi in Italia sei mesi alle Canarie la scelta è stata tra l'altro quella di una cittadina non troppo grossa non troppo turistica con pochi resort insomma rispetto a quello che anche si vede a Tenerife o anche in altre isole delle Canarie è anche un'opportunità sempre di più insomma poi anche con il lockdown e con il covid in molti hanno deciso poi insomma di cambiare un po vita la scelta di Andrea della sua famiglia è una scelta che ehm arriva prima perché arriva nel 2016 dicevo Andrea la scelta di una dicevo così di una non troppo turistica non troppo grande è perché insomma il turismo ve lo vivete già tanto in Liguria? sì assolutamente sì ma la bellezza di Playa San Juan non dovrei farle troppo pubblicità è il fatto che si fa una vita di paese eh perché è un paese relativamente piccolo è una frazione eh e quindi sono circa cinquemila persone c'è una discreta comunità di italiani è una vita tranquilla non ci sono grossi complessi alberghieri ci sono sì turisti ma sono quei turisti da da seconde case che vengono a svernare molti nord europei e adesso ultimamente anche molti italiani l'abbiamo scelta proprio per per questi motivi qua una piccola spiaggia non ci sono grossi complessi turistici e quando vai a prendere il caffè al bar sanno esattamente come vuoi il caffè perché si si instaura un rapporto un po' come essere a Sestri Levante un po' come essere a Sestri Levante perché Sestri Levante d'inverno è meravigliosa e quando io riesco a venire magari sotto Natale perché poi a Natale veniamo a a fare le due settimane qua perché c'è tanto lavoro anche qua a Natale Sestri Levante è bellissima perché eh riprendi il rapporto con le persone che vivono e lavorano ancora nel centro storico. Senta Andrea ehm in questi anni ha un po' così capito qual è la differenza del turismo lì alle Canarie rispetto al turismo che abbiamo noi che c'è che avete voi in Riviera in particolare a Sestri Levante ma non solo? Beh noi noi a Sestri Levante oltre a vivere in un posto splendido vi posso garantire che Pai Sanquanto e quanto possa essere bello non è neppure lontanamente paragonabile a Sestri Levante ma noi abbiamo dei grossi vantaggi non solo il fatto di essere una caleta turistica ma di essere a meno di due ore da Milano. Ora vi voglio raccontare un aneddoto eh quando è arrivato il covid era il duemilaventi eh a luglio all'inizio luglio eh si è potuto riprendere i viaggi e andare a Tenerife quando noi abbiamo riaperto a Sestri Levante siamo stati subito invasi dai turisti io me lo ricorderò tutta la vita ero a Las Americas nella passeggiata che normalmente è murata di gente erano le due di pomeriggio ed ero l'unica persona in tutta la passeggiata sembrava di essere in un film tanto era spettrale la situazione per cui loro sono abituati a un turismo eh di massa che raccoglie un po' tutti i target perché comunque è vero che vanno per lo più persone con un target eh di spesa basso però poi ci sono anche tante tante persone che vanno e hanno e hanno altri target di spesa perché ci sono anche dei centri golf molto importanti con dei percorsi che sono riconosciuti in tutto il mondo però è proprio una formula di di turismo di turismo estremamente diversa rispetto alla nostra legata legata soprattutto agli aerei e noi siamo legati solo al alle previsioni del tempo del sabato e della domenica che qualora lo permettano ci ci eh ci ci danno la possibilità di avere i nostri cari amici milanesi milanesi che milanesi poi ce ne sono anche altre noi siamo abituati a sesto e levante di milanesi però anzi no c'è una battuta me l'ha consentito una battuta eh l'ho raccolta nei giorni passati proprio il venerdì santo ero ero in coda a prendermi la focaccia io anche io anche noi a sesto avevamo i nostri panettieri di fiducia non avevamo prendere la focaccia e c'era davanti a me una signora no che con spiccato a cento genovese ma parla in italiano oh beh lì sono arrivati pizza bianca scusate me permettetemi ma questa scusate se ci fosse all'ascolto insomma anche sul nostro canale youtube o anche sul sito perché poi insomma questa è una rubrica che viene molto vista anche on demand senta Andrea le faccio un'ultima eh domanda proprio insomma per per quello che è il suo lavoro questa difficoltà a trovare camerieri a trovare persone che lavorano nella ristorazione nell'accoglienza nel turismo c'è anche quest'anno c'è anche alle canarie dunque eh alle canarie c'è un un larghissimo turnover di di personale un po' perché c'è questo mito di andare lì e vivere con le ciolas le ciolas sono le infreddito per cui tantissimi ragazzi vengono partono dall'italia magari anche senza parlare lo lo spagnolo e vanno e si arrabattano il problema è che gli stipendi sono relativamente più bassi rispetto a quelli italiani e e oltre a questo gli affitti sono relativamente elevati per cui devono poi condividere le stanze e diciamo che nella maggior parte dei casi le loro avventure dopo quattro sei mesi finiscono nella maggior parte dei casi e poi ci sono anche persone che si sono stabilizzate questo porta un turnover di persone che vogliono sempre andare là quindi bene o male loro del personale lo hanno sempre magari poco professionale nella maggior parte dei casi però non hanno molti problemi noi a seste levante devo dire la verità un po' di problemi li abbiamo avuti noi come come ristoranti come gruppo abbiamo il vantaggio eh ci siamo strutturati un po' come gli alberghi riusciamo a fornire il vito e l'alloggio e quindi questo ci rende potenzialmente più attrattivi magari rispetto a chi non può fornire l'alloggio e quindi è legato a trovare persone che arrivano solo eh dal posto dalle migliate vicinanze quindi questo è un pochino un vantaggio che abbiamo. Sede Andrea quando è a Tenerife che cosa le manca di più di seste levante? Eh dunque mi manca innanzitutto arrivare in carugio la mattina a fare quattro passi quando le attività sono ancora chiuse e magari buttare un occhio alla baia che che purtroppo siamo purtroppo anzi no noi siamo troppo abituati a vedere la baia il bello di seste levante che certe volte ce lo dimentichiamo e quindi quando io arrivo da Tenerife la prima cosa che faccio è andare a vedere la nostra baia. Allora Andrea io la ringrazio e la lascio salutare insomma i nostri telespettatori nella lingua del paese che la ospita per insomma metà anno. Hola a todos nos vemos pronto. Grazie mille Andrea Ballarini buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a tutti grazie di tutto buona giornata. Arrivederci. a tutti grazie 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 a